Buonasera, voglio a forza Napoli Allora, voglio vi voglio far vedere una foto perché poi dopo dite che sto stai lì guardate un po' la differenza guardate un attimo questa foto, prego ecco qua, avete visto la differenza allora, la differenza è una sola quando stava nel Napoli beh, non ci poteva non poteva fare assolutamente niente niente ma non è un caso da quando sto con voi, da settembre che è iniziato il campionato fino adesso i Gualota ancora non pigli un'ammonizione mamma mia non è un fatto che io parlo sempre è il fatto che effettivamente è così quando stavano in Napoli addirittura venne pure espulso perché se ricordate, con l'Udinese non lo toccò nemmeno chiedeva solo spiegazioni tre giorni di espulsione mo' caso braccio perché già sa che è uno di loro non c'è un caso braccio ti trovo, no? ti trovi? non c'è uno di loro come dice l'Udinese è brillante come si dice come si chiama? Marotta mio figlio mi suggerisce che poi mi ricordo pure l'Udinese è brillante che niente di meno si sta per l'uomo ma sta guardando da me che te ne ho strabisci e Marotta mi ricordo che per prendersi Iguolotta gli scrisse un bel comunicato gli disse caro Iguolotta proprio così lo chiamavo caro Iguolotta se vuoi venire da me non sarai più ammonito lo bereremo sempre senza farcene accorgere potremmo sparare pure l'albitro non succederà mai niente quindi vincere le scudette consecutive a rubare quindi puoi tutto quindi ti conviene venire da noi e tu perciò ci vuoi dare rubare questa è la spiegazione ma io ma vi saluto un bacione è sempre Forza Napoli è tu Iguolotta è una vergogna ecco qua sta foto qua proprio è penosa penosa niente di meno che ti aggiorisci fai proprio schifo che si vuoi fare ci voglio un bacione Forza Napoli grazie a tutti